già racconda a Claretta no che viene Claretta? viene Claretta a scendere? si studiamo un po' insieme e a loro so proprio signore benessi dunque signora ma non avete finito ancora? i miei gioielli ma me lo sa che quando sento parlare di tasse prendete un mire e vuoi patatata i miei gioielli ma che hai pulito una tavola? di che figlia è mia? vabbè quando so bello ma perchè c'è stato tanto di imbaccarata e vuoi ti chiamare? che lei fatta una ronna che non ha fatto parlare con Gianninetto Sessina e perchè? perchè ci tu ne sa tanto che sta Claretta che avrei sentito fatto sorella di quello che vorrei facciare a Giannina se trovasse qua quando vuoi venire a fare la scema beh, non è davanti a Renato no, è il fatto mio e non sono cadendo dentro il cervello da tanto tempo facete una cosa voi non scendete io devo fare una camminata più tardi sai io se vedete che c'è Claretta Sessina parlate e se no me la stico è per il bene delle nostre figlie quella è una signorina da faccia importante